A Castel del Monte il Festival del Cinema Naturalistico e Ambientale è protagonista sino al 12 agosto. Si è parlato nel corso della serata di ieri sera anche di ricostruzione, in particolare di rivitalizzazione dei centri storici per incentivare l'attività turistica. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa che era da anni che non facevamo, cioè fare il festival in un solo paese, perché da diversi anni, da dieci anni era un festival itinerante nei paesi che avevano a che fare con la natura, quindi aree protette, parchi. Ricostruire purtroppo dopo un sisma è riscoprire quello che i nostri antenati hanno fatto e noi quello stiamo facendo, stiamo cercando di riportare le pietre a vita, erano state ricoperte anche con superfittazioni, con altri obrobi che purtroppo negli anni sono stati fatti per cercare di rendere agibili, abitabili le abitazioni. Canti riaperti, navighiamo sui 1250 tra cratere e fuori cratere e media di ammissione a contributo, siamo sui 30 milioni di mese, quindi con una proiezione di 350 milioni all'anno per la ricostruzione privata. Sulla pubblica buone notizie perché in questi giorni ci sarà una CIP che assegnerà altri fondi sull'edilizia scolastica e sulla ricostruzione pubblica della cratere. Protagonista del cartellone è il documentario La montagna che visse due volte di Francesco Petretti, dedicata al Gran Sasso, al parco e alle attività dell'uomo che hanno integrato l'opera della natura aggiungendo bellezza al paesaggio. A seguire la proiezione di Undicesima Ora, un film diretto da Lena Connerts, Peters e Dania Connerts, prodotto e narrato dall'attore Leonardo Di Caprio, affidandosi al parere di personalità come il padre della perestroica russa Gorbachev, il fisico Stephen Hawking, ex capo della CIA James Wolsey, oltre che numerosi esperti impegnati nel campo dello sviluppo sostenibile, l'undicesima ora mostra le cause profondamente radicate nel nostro stile di vita dell'attuale situazione ambientale, un film che non si limita a illustrare i problemi del nostro ecosistema, ma ha proposto anche le possibili soluzioni necessarie purché non si arrivi ad un punto di non ritorno, causato da un modello di sviluppo e da un ritmo di consumo delle materie prime non più sostenibile. Cinema e ambiente dunque che si intrecciano in un cartellone molto ricco di eventi che animerà il piccolo borgo di Castel del Monte.